io già ce l'ho uno scemo in casa qui siamo in due ragazzi Christian è un casino tenetevi conto noi con chi viviamo ma tu hai capito Christian? ciao ragazzi tu vuoi farla mercoledì in modo che chi non lo fa mercoledì con noi comunque se la segna la preparerà proprio per Pasqua ecco, sì allora decidiamo mercoledì mattina o mercoledì pomeriggio chiediamola a loro a loro chi? ai followers ai tuoi followers sentite followers decideteci vediamo mercoledì alle 11 o mercoledì alle 19 o 18 no, è troppo tardi dobbiamo fare la pasta frolla bisogna far riposare la pasta frolla no ma aspetta, 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 aspetta Christian allora la pasta frolla la facciamo prima esatto anticipiamo ci presentiamo solo con la pasta frolla con la pasta frolla già pronta perché sennò è un casino la spieghiamo soltanto sì, perché sennò ci vuole una giornata bravo bravo ci prepariamo tutto è perché la vostra parte della pasta frolla Nina per me la roba va messa in frigo per tutto il giorno fuori cacciata fuori impastata è un casino è un casino perché la pasta frolla è pronta beh, allora possiamo farla anche giovedì dai allora grazie